bene francesca allora volevo appunto ho visto che tantissime mamme qui sono interessate ci hanno non dico bombardato ma scritto tante domande che riguardano comunque già cose che hai già detto ma promette si vogliono chiarirle ulteriormente parliamo infatti ad esempio vedo una domanda di mascherine cioè una mamma chiede la differenza tra la mascherina cioè del filtro tra con avere il filtro e senza filtro qual è meglio utilizzare quindi parliamo più che noi cioè proprio parliamo relativamente alla mamma intanto cosa tu consigli e cose meglio come mascherina allora diciamo che quando noi usciamo quindi quando una mamma esce magari per portare l'altro piccolo a fare una piccola passeggiata visto che adesso è anche concessa una piccola piccola passeggiata in realtà la mascherina con il filtro se non è in quel momento necessaria perché la mascherina serve a non emettere il proprio il proprio fluo e anche a non ricevere quello degli altri quindi a proteggersi ma soprattutto a non emettere il proprio la mascherina con il filtro quanto meno noi sanitari la utilizziamo solo e soltanto quando siamo sicuri che il paziente sia un covido propositivo in tutti gli altri casi anche noi utilizziamo solo la mascherina chirurgica